Sicurezza alimentare e attenzione alla provenienza dei cibi, due punti essenziali per guidare le scelte dei consumatori. Sabato 15 in Villa Comunale avrà luogo l'iniziativa a mangiare informati, promossa e curata dal Comune di Napoli per guidare i cittadini a scegliere consapevolmente gli alimenti, a verificarne l'origine, a selezionare i prodotti in base alle loro proprietà e alla loro affidabilità. Una serie di percorsi tematici porteranno i visitatori a scoprire le qualità del cibo biologico, a controllare i prezzi, a verificare le corrette modalità di vendita e di conservazione dei prodotti. Ma io penso che bisogna innanzitutto cominciare con campagne informative sulla provenienza dei prodotti che arrivano sulle nostre tavole, quindi dalla tracciabilità dei prodotti e in questo modo spingere sempre di più a utilizzare prodotti a chilometro zero perché la sfida per l'ambiente, la sfida per la difesa dell'ambiente, della natura e del nostro e del futuro del nostro pianeta passa attraverso le riduzioni delle emissioni in atmosfera. Noi abbiamo già un accordo con i medici pediatri che faranno anche lezioni di sana alimentazione nelle scuole, considerato che ahimè i bambini napoletani risultano essere tra quelli che mangiano peggio o hanno più problemi di obesità. L'associazione Pizzaiuoli Napoletani installerà un forno a legna per i ragazzi che potranno cimentarsi nell'arte della pizza. Legambiente organizzerà un laboratorio per bambini sulla realizzazione di piccoli orti casalinghi. Slow Food approfondirà il ruolo che contadini, casari, pescatori e allevatori hanno nelle filiere alimentari e la Col di Retti insegnerà a leggere la tracciabilità, l'origine e l'etichettatura dei prodotti.